Sul passo del Gavia, tra le province di Sondrio e Brescia, la neve rimasta d'inverno è rosa. La colorazione che allarma ambientalisti e studiosi universitari dipende dal proliferare di un'alga presente sul ghiacciaio del Presena. L'Ancilomena Nordenskyoel di Initalia non si era mai vista. Il fenomeno della colorazione rosa delle nevi era stato rilevato in passato nella cosiddetta Dark Zone della Groenlandia. Secondo gli esperti, il proliferare dell'alga è imputabile all'innalzamento delle temperature, anche in alta quota. In questo luogo noi stiamo cercando di quantificare l'effetto di altri fenomeni che si aggiungono a quello diretto dell'impatto umano, che sono di carattere più naturale, ma che possono avere in qualche modo delle relazioni con la presenza, per esempio, dell'uomo a queste altitudini, tramite gli impianti e l'escursionismo. A Visaglie c'erano state nei mesi scorsi in Engadina, Svizzera, ma mai quest'alga unicellulare si era riprodotta a latitudini così basse. Le conseguenze possono essere molto serie, perché secondo alcuni studi l'alga rischia di accelerare ulteriormente lo scioglimento dei ghiacciai, un'altra conseguenza del surriscaldamento globale.